nel secondo tempo più energia eccoci qui appena finita la partita come volemmo si dimostrare sconfitta altra sconfitta prima avanti così vai ne sconfitte ne sconfitta statistiche impietose pochissimi di importo ma d'altronde davanti avevi una squadra come l'Atalanta per carità grandissima squadra oggi ha dimostrato le vince vittorie ampiamente meritate a mio avviso primo tempo infatti un tiro solo in porta forse quello di Perotti ha anche ma onestamente stanno appena proprio la via del declino più totale e il signor Petrachi ha anche il coraggio di fare il protagonista in conferenza stampa quando tu qui la colpa non è di tutti secondo me la colpa è di tutti mi sembra la stagione scorsa porca troia mi sembra la stagione scorsa mi sembra la stagione scorsa porca troia e onestamente ci siamo lotti coglioni onestamente tanto Gasperini ride anche io onestamente ormai siamo altamente distanti dalla zona Champions ci hanno distanziati non si sa quanto tempo dei quanti punti porca troia primo tempo un pochetto l'hanno fatto benino ma neanche tanto e io comincierei a farmi qualche domanda onestamente perché tu qui se favo come l'anno scorso meglio cambia adesso che il gruppo onestamente ma tanto non cambieranno niente anche per questo corso in atto onestamente questo cambio di proprietà in atto sta stagione sta prendendo la piega che alla fine me credevo me pensavo perché stava andando troppo bene sta stagione onestamente e infatti puntualmente stiamo riandando giù come stiamo sciognendosi come neve azzule onestamente e ci siamo lotti il cazzo porca troia deve esultare tutti quell'altri perché l'Atalanta ha fatto una grandissima prestazione a mio avviso basta guardare le statistiche le tiri in porta su guardato prima c'è poco da fa anzi sono stati ampiamente imprecisi quest'oggi ci è andato ampiamente bene che potrà finire anche di più secondo me e mi ho fatto poca roba addirittura al secondo tempo verso la fine faccio un attacco pensa a te come è messa sta rosa proprio gestita malissima a mio avviso altro che il petrachi il petrachismo l'asino il cavallo sul galoppo è il cazzo che vese in cula porca troia intanto tu qui se fanno i surfi sotto la curva quelli dell'Atalanta complimenti a voi onestamente c'è poco da dire altro che tutti sopravvalutati onestamente questi della Roma siamo tutti sopravvalutati cazzo siamo male modulire pellegrini no comment pellegrini ragazzi e c'era qualcuno che diceva diamo la 10 a pellegrini come no si allora se diamo la 10 a pellegrini allora diamo la 10 anche a Peres cazzo porca troia se proprio vogliamo trovare il miglior in campo forse Kluivert che può anche Kluivert cosa cazzo Kluivert che era uno dei pochi che forse saltava l'uomo che forse poteva creare qualcosa di buono tu lì davanti non leva e adesso forse che caro mio stia a fare un macello clamoroso onestamente quindi è ora che ci svegliamo tutti quanti anche sui cambi tocca essere più celeri e soprattutto i cambi giusti cazzo perché a mo ci siamo stufati a mo comincia non può essere troppe le sconfitte porca puttana e me sono lotti coglioni porca troia come dicevo tempo fa rischiamo di finire a 20 punti dalla Lazio e io non credico le cose tanto per dirlo onestamente porca troia è evidente che non ci siamo non ci siamo per niente involuzione sul gioco pochissimi ti importa involuzione su tutto tanti gol presi che vuoi salvare sta Roma onestamente io non salverei nessuno porca troia e quindi niente poca roba la dì che c'è da migliorare ma tanto ormai sta stagione io già la vedo chiusa per me è già finita già penso alla prossima sperando che porca quella grandissima puttana sto cazzo del presidente nuovo ci faccia ritornare la voglia di sognare perché tu qui i sogni non ci sono più onestamente con sta Roma non si sogna più è finito tutto per me già l'anno scorso mi sta passando la voglia di guardare le partite fa bene chi al sabato sera prende esce e se ne va a fanculo e fa benissimo perché questi sono degli indegni ti fanno perdere solo tempo porca troia due ore che potresti passare in qualunque altro modo e invece le incazzate tu qui davanti porca puttana perché tu qui i problemi già hanno tantissimi quelli della vita reale porca troia poi ci si mette anche il calcio e allora esplodiamo del tutto porca troia intanto intervista non papo Gomez prestazione per me più che sufficiente da 6 e mezzo setti sicuramente sul giornale domani magari avercelo uno come lui in squadra invece siamo tutti tutti pompati sopravvalutati tutta gente che vale nessun soldo di quello che gli danno puttana mignotta e ci siamo stifati e basta sporco la cioccolata tanto ormai tu qui le male in peggio porca puttanaccia schifusa insomma la prossima non mi interessa perché come dico sempre guarda la giornata porca troia e la giornata dice che è nera è nerissima sta giornata porca troia il Verona c'è dietro c'è il Verona che se vince va a due punti da zona Champions sì dalla zona Europa League insomma dal nostro posto e te pensa come siamo messi perfino il Verona fa un po' c'è super porca troia poi c'è il Milan che è in grandissima forma il Napoli anche anche se qualche volta anciampa però sta ritornando in forma io vedo che secondo me c'è sopra uno tutti poi sperando in qualche cambio mentale e fisico questa squadra ma la vedi davvero durissima da come vedo che giocano onestamente non c'è più gioco non c'è più niente l'unico che salvo sono sempre i soliti 1.100 1.200 quant'erano 1.500 è solo il preciso tifosi della Roma che hanno continuato a sostenere questa squadra da inizio alla fine per il resto nero assoluto nero assoluto cazzo e stavolta è a mo basta anche il mister onestamente ma stufato porca troia qui tocca cambia marcia se no l'Europa League neanche in fama il prossimo anno te lo dico io sembra la stagione di Luis Sirico onestamente porca troia del Zeman e che cazzo e dai in questo 2020 mi pare una vittoria sola quella col Genoa porca troia ma che cazzo stiamo a fa poi uno dice perché c'è un cazzo mamma mia per carità per carità che annate brutti per noi rumanisti ragazzi che annate brutti speranno come dico sempre sto presenza se faccia intanto sto cazzo di closing che a finire a dicembre se momenti aprile ancora non si è concluso niente dice che a aprile si dovrebbe concludere sto cazzo di closing e concludete porca puttana vaffanculo che ci siamo rotti coglioni tu qui porca troia siamo davvero indegni e indecorosi uno va in vantaggio se fa recuperare come niente difesa proprio con la brodo ah tra i migliori in campo Smalling che oggi ha fatto il lavoro per due tu lì dietro porca puttana porca troia ha fatto un lavorone porca troia e riscattatelo che vale i soldi sprechiamo i soldi di qua e di là e la gente buona la riscattiamo dio buono ma come cazzo ragionate porca troia sprechiamo i soldi di qua e di là pensi giocatori mezze pippe e per Smalling niente ancora niente acquisto totale bah io non capisco proprio da voi altri ma d'altronde abbiamo tutti direttori sportivi osceni onestamente per carità dal Torino che cazzo ti aspettavi per carità va siamo perdi eppure se fanno quando vanno in conferenza stampa si credono i protagonisti di questo cazzo quando la squadra uno l'ha creata proprio te ricreata porca troia diciamo verde va prima che mancazza ancora di più e niente appuntamento alla prossima sempre forza Roma ma proprio qui vedo il tunnel nero più totale